alla fine il mercato ha indicato la Juventus come società vincente come quella che ha posto in essere una squadra che può lottare per lo scudetto con Nico Gonzale, Cook Miners e anche con Seisao certo la partita vista contro la Roma non ha evidenziato una grande differenza rispetto alla squadra di Allegri però è una squadra che non prende gol e con il lavoro Diego Motta potrà anche assemblare i nuovi per una rosa che sembra molto profonda anche il Milan ha comprato bene con Fofana uno che gioca davanti alla difesa può fare schermo e può ridare equilibrio ma i problemi sono tanti il Milan è andato in vantaggio in casa della Lazio che era in difficoltà non ha chiuso la partita, ha permesso alla Lazio di recuperare con la fascia sista in uno Tavares addirittura la Lazio ha un mancino a sinistra e questa è una grande novità e con il problema Leao e Teo li ha lasciati fuori Fonseca per un discorso che non può mai essere tecnico ma semmai disciplinare ma questo ha portato problemi al Milan che ha giocato sulla fascia destra con una coppia formata da Chukueze e Emerson Royal che hanno davvero lasciato a desiderare in più c'è il problema di una frattura caratteriale con Teo e Leao e questo sarà da gestire troppo presto alla terza giornata con il Milan è in difficoltà la Roma perché ha mantenuto Di Bala che passa per un eroe però il fatto è che prima sembrava che la Roma non possesse giocare senza Di Bala adesso sembra che la Roma non possa giocare con Di Bala che infatti è partito in panchina sulle Di Bala dovrebbero essere le stelle ma non possono giocare insieme nel 3-5-2 giocherebbe Di Bala a seconda punta nel 3-4-3 giocherebbe o nel 4-3-3 giocherebbe sulla fascia ma sull'altra fascia non può giocare Di Bala per caratteristiche quindi c'è un problema di mercato non del tutto mirato da parte della Roma il Napoli ha vinto con Lukaku quindi il connubio con Lukaku continua a funzionare ma ha vinto in circostanze molto particolari con Suzuki, portiere del Parma che regala un'espulsione lascia la sua squadra in 10 senza un portiere che può entrare perché i cambi sono stati tutti effettuati quindi tirando senza portiere è normale che Lukaku possa fare gol ma il Napoli non ha fatto gol nel senso dello spettacolo cioè non ha giocato bene chiudiamo con l'Atalanta l'Atalanta ha perso Goff-Minders ha perso per i legamenti Scamacca ha comprato tanti giocatori interessanti ma sono del tutto nuove e ha avuto il problema Lukman magari Casperina ce la farà ma lasciamo tempo per lavorare e magari ci saprà sorprendere ancora